Musica Ben trovati con l'informazione sportiva di Molise TV mentre vi parliamo il termole in campo al Cellano per il recupero della gara a sospesa ricordiamolo 10 giorni fa sull'1 a 1 per un infortunio al giudice di gara oggi si riparte dal primo minuto e dallo 0 a 0 nel corso del TG sportivo della sera ampio resoconto della gara e adesso parliamo di ipodismo la provincia di Campobasso ha premiato Andrea Lalli campione continentale di cross portacolori delle fiamme gialle che lo scorso mese di dicembre ha portato i colori azzurri e il Molise sul tetto d'Europa vediamo è stato premiato nella sala giunta della provincia di Campobasso Andrea Lalli campione europeo di corse a Campestre che nello scorso anno solare ha raggiunto il meritato all'oro in quel di Budapest settima medaglia per il molisano originario di Campochiaro la quarta è ancora una volta d'oro e ancora più in importanza perché è la prima raggiunta nella categoria senior grid da carattere, forza di volontà e una forte passione fanno di Lalli un vero campione un campione che però resta umile spendendo parole d'elogio verso i suoi concittadini sicuramente come ho ripetuto più volte è sempre un onore ricevere un premio, un riconoscimento dai propri compaesani perché ciò significa che comunque hai fatto qualcosa di buono per la tua regione hai portato in alto il nome del Molise e quindi questo mi riempie davvero di gioia il campione europeo di podismo Lalli che avevamo avvicinato ai nostri microfoni in occasione della vittoria dedicò la allora gara della sua vita a se stesso i suoi sacrifici professionali e non adesso però cambia rotta variando i destinatari della dedica per questo riconoscimento ottenuto nella provincia di Campobasso in quell'occasione dedicai la vittoria a me oggi posso dedicarla a tutti quei giovani che comunque vogliono avvicinarsi al mondo dello sport e dirgli che comunque l'atletica italiana l'atletica molisana ha bisogno di un ricambio quindi avvicinatevi a questo sport perché comunque vi dà la possibilità di fare delle bellissime esperienze cosa che sto facendo io e appunto il Molise ha bisogno di un ricambio di atleti quindi fate qualcosa per portare la nostra regione in alto e a premiare il campione molisano per il titolo ottenuto a livello internazionale lo scorso anno il presidente della provincia di Campobasso e volto noto dello sport molisano Rosario De Matteis innanzitutto penso che era doveroso da parte nostra da parte della provincia che mi onoro di rappresentare in qualità di presidente dare un riconoscimento ad un atleta che si sta facendo onore si è fatto onore e che è della nostra terra un giovane che col suo impegno e con le sue qualità innate di podista sta portando in alto il nome della provincia di Campobasso e della regione molise e quindi lo dovevamo già preparare precedentemente per quella strepitosa vittoria di dicembre a Budapest come campione europeo di cross e lo abbiamo fatto adesso perché c'è stata la disponibilità di Andrea in quanto era stato impegnato in Kenya per gli allenamenti vorrei ricordare che è l'unico atleta italiano che è stato capace di vincere il campionato europeo sia da juniors che da under 23 che da senior quindi è un giovane che merita la nostra attenzione è un giovane che si sta facendo onore e sono sicuro che continuerà a darci anche degli ottimi risultati Il presidente coglie anche l'occasione per sottolineare il delicato momento vissuto dallo sport molisano e rivolge un appello ai giovani della nostra regione Lo sport sta vivendo anche un momento particolare anche per le distrettezze economiche voi sapete che i tagli non solo alle province ma alle regioni e ai comuni sono drammatici e quindi il futuro certamente per quanto riguarda lo sport non si preannuncia a Rosio però noi dobbiamo come istituzioni anche se le nostre distrettezze economiche stimolare i giovani alla pratica dello sport perché non solo per i valori che lo sport ha ma soprattutto per allontanarvi da quelli che sono i pericoli della vita Parliamo adesso di calcio di Lega Pro il Campobasso archiviato il successo contro la Salernitana pensa già alla sfida salvezza in casa della Vigor Lamezia la prima di due trasferte consecutive intanto il giudice sportivo ha combinato 1500 euro di multa al club rosso-blu per indebita presenza negli spogliatoi di persona non identificata ma riconducibile alla società e per l'esplosione di fumogeni e petardi il servizio il Campobasso ha già messo alle spalle l'ottima prestazione e i tre punti ottenuti contro la Salernitana per proiettarsi alla sfida salvezza in casa della Vigor Lamezia la prima di due trasferte consecutive e decisive per la lotta alla permanenza della categoria i lupi sono reduci da quattro vittorie consecutive che hanno restituito la squadra all'ambiente rosso-blu entusiasmo e fiducia in vista del rascio finale del campionato e soprattutto verso il futuro per la prima volta in questa stagione il Campobasso non si trova nella zona rossa della classifica e nelle prossime due gare serviranno almeno quattro punti per arrivare alla sosta pasquale con la classifica attuale dopo Lamezia e Martina i lupi concluderanno la stagione contro Borgobugiano Foligno e Teramo prima di concludere con Aversa e Fondi che quando incontreranno i molisani saranno già retrocesse con il finale di stagione a Melfi intanto a tornare sulla gara contro la Salernitana è stato il portiere Cattenari Beh per ogni calciatore è un'emozione indescrivibile ognuno di noi penso che ogni domenica vorrebbe giocare davanti a quante persone erano 3.000-4.000 persone Ti ricorda un po' Pescara? Beh sì sinceramente durante il riscaldamento mentre entravano i tifosi della Salernitana entravano i tifosi nostri lì sono andato un po' indietro dei giorni quando stavo a pescare io mi sono sempre fatto trovare pronto lavorando bene con il mister non ho non ho attraversato un bel periodo nel mese di gennaio però ho cercato sempre di andare avanti e lavorare bene mi è stata concessa questa possibilità fortunatamente l'ho sfruttata bene riguardo a domenica prossima e giocarmi il posto con Rino che siamo grandissimi amici anche fuori dal campo le decisioni che fa il mister e qualsiasi decisione che il mister faccia bisogna rispettarle il tifo come oggi secondo me è il dodicesimo uomo in campo ti fa fare la differenza ripeto questo qui è dovuto solamente al lavoro che abbiamo fatto che abbiamo svolto fino adesso e noi ringraziamo tutta la gente che è buona oggi allo stadio quanto è unito lo spogliatoio quanto l'ha unito Vullo con il suo avvento dopo che andò via in bimbo tantissimo siamo compatti abbiamo avuto delle complicazioni personali poi c'è Antonio Minadeo che è il leader indiscusso senza togliere nulla ci va regalata una vittoria davvero bomba meno male che sensazioni hai a giocare con giocatori davvero esperti oggi mancava Guazzo però c'era comunque un ginestra che ti ha creato qualche pericolo magari non era stato così troppo arrembante magari ti aspettavi una serenitana diversa che magari tirasse più verso lo specchio della portale comunque le conclusioni che ti hanno comunque messo in seria difficoltà non ci sono poi state seriamente quando poi comunque ti sei fatto sempre trovare alla grande pronto ma sapevamo che la serenitana veniva qui a Campobasso a giocarsi la partita e vincerla sfortunatamente per loro non ci sono riusciti però sapevamo anche che loro hanno un organico che fa paura non è da C2 presi singolarmente per ruolo secondo me hanno i giocatori più forti delle categorie anche perché sono giocatori di altre categorie secondo me nel proseguio del campionato ti auguri di restare anche per la prossima stagione oppure pensi di andare via ovviamente io non ti voglio prendere nel personale sappiamo benissimo come funziona con i calciatori però è anche vero che comunque quando sei stato chiamato in causa ti sei sempre fatto trovare pronto è sempre difficile comunque sostenere il peso di un portiere come Rino Giuliano ma tu nonostante la tua giovanità comunque è una lunga carriera davanti a te se pari comunque come hai parato oggi comunque ti auguro veramente il meglio ti ringrazio per le tue parole io da Rino non posso altro che imparare solamente guardarlo come sta a mezzo al campo e come affronta la partita c'è solamente da imparare riguardo il futuro ne parleremo a giugno con il pescare o con il campo basso e tireremo le somme passiamo al calcio di serie D l'Isernia Football Club dopo otto risultati utili di fila con i dodici punti all'attivo si proietta la gara di Iesi in una importante sfida naturalmente per la lotta alla salvezza i pentri dovranno tornare a casa con i tre punti intanto a tenere ancora banco è il pareggio contro la maceratese sentiamo Siamo con Calabrese difensore dell'Isernia FC un risultato sicuramente positivo potremmo dire ennesimo pareggio ma come si dice in questi casi sulla carta è meglio non perdere queste partite ci va il mister bicchiere mezzo vuoto Sì diciamo che volevamo impostare la partita per i tre punti l'abbiamo impostata così tutta la settimana abbiamo lavorato per raggiungere i tre punti solo che poi c'è stato quell'episodio a fine primo tempo che purtroppo ci ha fatto rimanere in dieci ed è dura contro una squadra comunque importante come la loro dieci contro undici vince la partita anche se poi vedendo il secondo tempo come era andata possiamo ricriminare perché stiamo per fare gol abbiamo avuto l'occasione più uniti da noi in dieci però diciamo che va bene così anche se i pareggi come si suol dire sono mezzi sconfitte però la cosa positiva è che vendiamo cara la pelle è un vero peccato perché il mister loro poco fa ci ha confermato che si sono tenuti il pareggio su un campo così era difficile per loro non sono riusciti a giocare era difficile dice che voi tenevate solo un pallone in campo insomma l'avevate impostata veramente bene questa partita quindi forse probabilmente si può dire che il bicchiere oggi è proprio mezzo vuoto diciamo che quando sta in difficoltà può capitare che i palloni vengano a mancare va bene il mister penso che sta nel calcio da parecchi anni e lo sa come funziona però diciamo che questa la squadra nostra è una squadra dura difficile da battere penso che loro se ne sono accorti anche dieci contro undici ci racconti quella quella tua sortita nel secondo tempo cosa speravi di fare pensavi di andare in porta ma forse non ti seguirei eri solo nel deserto infatti niente ho provato l'anticipo che mi è riuscito è solo che a un certo punto ho alzato la testa e non c'era nessuno allora ho pensato di tirare in porta anche perché se sarei se fossi andato più più là magari potevo perdere palla e potevamo prendere i partenzi io sono un difensore devo rimanere sono uno degli ultimi uomini quindi ho pensato più a non prenderle in quel caso là hai pensato più alla patria che a essere Rambo quindi ti va fatto un plauso e adesso c'era Jesina e quindi un rush finale di stagione che adesso vi condanna sicuramente a non guardare la classifica perché guardarla significherebbe poi perdere qualcosina in campo e gara dopo gara sì infatti adesso ci aspettano partite abbastanza dure è l'ultimo ciclo e dobbiamo fare il massimo di quello che ci è dovuto domenica abbiamo una partita dura un campo dove è difficile fare risultato però noi dobbiamo a tutti i costi sperare nei tre punti non possiamo più guardare a pareggiare non possiamo più dobbiamo vincere assolutamente quindi andremo là anche anche se è una partita dura come abbiamo fatto anche ad Astrea che poi non ci è riuscita dagli ultimi minuti per cercare sempre di vincere anche perché la mentalità del mister è sempre una mentalità propositiva e non vuole mai vuole sempre vincere qualsiasi partita anche con la prima in classifica l'Olimpia nionese continua a volare alto e dopo aver vinto anche a Teramo contro il San Nicolò e Granata ora attendono la Miternina in una gara che potrebbe fare entrare gli altomolisani nell'orbita playoff passiamo adesso all'eccellenza il massimo torneo regionale giunto al rush finale mancano sette giornate al termine ed è ancora aperta la lotta alla Serie D ai playoff e la salvezza diretta il servizio siamo al rush finale nell'eccellenza molisana tutti al cardiopalma per vivere intensamente le giornate che restano da qui fino alla fine del campionato sette giornate al termine a giocarsela in primis ci sono le due capoliste del torneo il boiano di Carosella e il fornelli di mister Coletta appaiati in testa a quota a 57 punti più distaccata invece la Turis di Castaldi staccata di nove lunghezze adesso arriva il bello in questo mese nel prossimo che si deciderà chi verrà promosso nel campionato nazionale di Serie D uscendo fuori dai confini regionali tutto questo crocevia aumenterà nella pausa di Pasqua adesso però il campionato riserva a due turni del girone di ritorno in pochissimi giorni la decima giornata di ritorno è stata anticipata nel programma d'eccellenza molisana al 20 di marzo anziché al 24 e da qui si preannuncia mercoledì da Leoni nel giorno solitamente dedicato alle gare internazionali di Champions una nota negativa per parte tra Boiano e Fornelli i biancorossi matesini hanno nelle mancanze societarie il loro tallone d'Achille hanno deciso di non allenarsi nelle settimane che anticipano le grandi sfide del campionato la pecca invece nel Fornelli sta nel calendario più di ardua impresa rispetto a quello che la sorte ha riservato al Boiano in questo caos infatti potrebbe approfittarne la società di Santa Croce di Magliano che con i nesti del calibro di Panico e Monaco di Monaco può davvero fare la differenza il Boiano domenica avrà una sfida delicatissima a Montenero con la squadra di Lallopizzi reduce dal brutto KO di Campobasso e con la voglia di riscatto per agguantare la salvezza il Fornelli invece almeno per questa domenica sembra avere in un match più agevolato sulla carta contro i blucerchiati del Roccaravindola nelle impressioni a caldo sembra che questo testa a testa si possa prolungare al 14 aprile data già segnata sul calendario a quattro giornate e la sfida sarà ancora da brividi perché ci si gioca davvero tantissimo Passiamo adesso al calcio giovanile gli allievi del difesa grande Termoli si sono qualificati al turno successivo del campionato nell'ultimo turno per i giallorossi pareggio per 2 a 2 a Campobasso contro le Acli vediamo Mister Sorgetti un pareggio non agevole conquistato questo pomeriggio sul campo delle Acli Campobasso ultima giornata di campionato comunque i playoff sono stati centrati noi avevamo è una squadra che era andata in vantaggio per due golle quindi diciamo che abbiamo reso partecipe la squadra delle Acli e in certo qual modo l'abbiamo favorita con il pareggio con errori che ci sono stati chiaramente alla fine della partita mancanza un po' di concentrazione da parte dei miei poi qualche riserva che è d'entrata non proprio concentrata ha permesso poi degli errori che poi hanno permesso il secondo gol al Campobasso e quindi alla fine è un giusto meritato pareggio una gara dal doppio volto un primo tempo ricco di occasioni da reti ma senza finalizzazioni da nessuna squadra secondo tempo siete passati come ha già detto lei in doppio vantaggio e poi addirittura sul due pari in ogni caso poco male la stagione è terminata così ci tenevamo anche a portare questa vittoria l'ultima vittoria a casa perché è una squadra giovane che ha ben insomma quest'anno tutte le partite le ha ben giocate e fortemente le ha quasi tutte vinte quindi anche questa ultima voleva essere una vittoria però proprio il 2-0 portato così poi alla fine con una certa facilità devo dire anche quello ha permesso poi una deconcentrazione totale di tutta la squadra che avevano già vinto la partita la partita era da pochi minuti dalla fine e diciamo che hanno permesso poi questo pareggio le aspettative della vigilia del campionato sono state rispettate oggi che siamo all'ultima giornata sì sicuramente sì perché come dicevo forse è la squadra più giovane di tutto il campionato tutti i classi 1997 quindi è una squadra giovanissima che forse ha fatto più di quanto doveva anzi credo che sia forse la squadra da attenzionare in quest'ultima fase è proprio perché la squadra su cui rivolgere più attenzioni lei che cosa come si propone il difesa grande di mostrare i propri ragazzi magari anche in squadre di categoria in campionati di categoria superiore professionistica sì certo la società ha già programmato degli incontri dei provini per questi ragazzi e qualche torneo importante in modo tale che possiamo mostrare la nostra vetrina del difesa grande che credo che sia ben nutrita di ragazzi che quest'anno meritano tutto quello che hanno fatto meritano e meritano chiaramente una vetrina superiore chiudiamo con una notizia di Torbo i guerrieri della luce formazione campobassana di Torbo appunto sono approdati in Serie A la promozione è arrivata dopo aver superato il turno di playoff ad Avellino intanto sempre per la disciplina continua il tour promozionale divulgativo della formazione dei guerrieri della luce sul territorio regionale domani pomeriggio dalle ore 14 alle 16 la neopromassa formazione di Serie A sarà ospite dell'università degli studi del Molise alla facoltà di scienze motorie due ore di lezione e di pratica che serviranno ai futuri docenti di educazione e fisica di poter meglio conoscere questa disciplina molto particolare e interessante bene con questa notizia è tutto grazie per averci seguiti arrivederci a presto